E si torna nella casa del grande fratello Vip, ma qui c'è un altro punto di vista per quanto riguarda la situazione di Elettra Lamborghini e Ginevra Lamborghini, ma a parlare stavolta ai Giovanni Ciacci che a quanto pare ha rivelato qualcosa, qualcosa sì, che sarebbe la motivazione che avrebbe indotto la cantante a prendersela proprio con la geffina. Quindi qui parliamo del vero e proprio motivo. Ovviamente si tratta di una sua ipotesi però, ma ormai in rete non si sta facendo altro che parlare di questo. in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali. Al grande fratello difficilmente Ginevra, protagonista di una lite con la sorella, potrà in qualche modo veramente incontrare Elettra Lamborghini, visto che quest'ultima ha anche fatto addirittura una diffida. Giovanni Ciacci pensa di avere ormai compreso quale possa essere l'origine dei grossi problemi familiari e ha voluto soffermarsi su questo e lo ha fatto in maniera aperta. Così almeno facciamo le differenze e vediamo se tante volte il suo motivo è quel che avete pensato voi o quel che ho pensato anch'io. Lui, tra l'altro, aveva avuto uno scontro giorni fa proprio con la compagna di avventura dicendo «Oh, ma mica stai a Bologna a casa, eh? Abbassa i toni!» Questo è stato in riferimento ad un «Buongiorno da lei» detto così, ad alta voce, quindi detto apposta, no? Invece, tornando a noi per le informazioni che abbiamo, leggendo un articolo del sito BC, è stato sottolineato il fatto che l'artista ha messo un «mi piace» ad un commento di un utente del grande fratello VIP7 contro Ginevra Lamborghini. E insomma, questo commento diceva «Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto». Su questo non c'era dubbio. Elettra non si è mai sbilanciata ufficialmente sul motivo, ma ora ci ha pensato Giovanni Ciacci a provare a fare un po' di chiarezza dal canto suo, dicendo «Ginevra ha una sorella di cui parlano tutti. La sorella è potente. La famiglia è potente». Per il costumista ha voluto ancora dire a proposito dei rapporti assenti tra Ginevra ed Elettra, dicendo «Lei non è rifiutata dalla famiglia, ma dalla sorella. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo che non c'entra niente con la famiglia. Sarà qualcosa di case discografiche?» «Dai retta, zia, vedrete. Sì, è successo così. Elettra è diventata famosa in tutto il mondo. Si è poi sposata. E poi ormai ha un marchio, ha un nome. Ginevra, che è sempre stato il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management». Beh, in realtà, signori, qualcuno ha pensato anche che c'entrasse il marito Afrojack. Comunque, non so chi di voi abbia pensato questa cosa, ma se avete pensato questa cosa scrivetelo immediatamente sotto nei commenti. E infine, BlocTV, che ha ripreso le parole di Giovanni Ciacci, ha aggiunto, rievocando il discorso del bippone, ovvero «Secondo me è successo qualcosa, perché se tu hai una sorella famosa, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata?» «Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione, perché sai bene cosa fanno le case discografiche. Da lì, secondo me, è nato tutto». Ma questo, ripeto, è soltanto un parere di Giovanni Ciacci. Se volete lasciare il vostro parere, qui sotto tranquillamente sbizzarritevi nei commenti. Nel frattempo, per questa piccola news è veramente tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!